bella a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo buonissimo video allora, oggi vi parlerò di una cosa molto importante allora adesso mi vedo questa bellissima luce del cavolo perché adesso, ecco così allora porti i spazi, allora volevo dirvi che stanno uscendo comunque dei video di un nuovo format diciamo su youtube che sto portando avanti col passare dei giorni, delle settimane, delle ore qualunque cosa sia sto portando dei format molto molto carini, delle live su twitch io comunque li ho già tutti registrati, editati, tutto il resto quindi voi vedete solo le parti, quelle più divertenti perché sennò sarebbe un video troppo lungo per tutto e non c'ho voglia di farlo tutto e sia ben chiaro ok ragazzi, spero che questo mini video vi sia piaciuto io vi volevo dire solo che questa è diciamo un'introduzione al nuovo format che sto portando su youtube questo video non lo ho registrato subito perché ve lo dico per gli indecenti che bella roba ma no via bocia